Molti lo conoscono come editorialista e blogger del Fatto Quotidiano. Scrive di economia e i suoi pezzi online sono tre più letti, secondi per numero solo a quelli di Marco Travaglio. Ma questo per Fabio Scacciavillani, 56 anni, originario di Frosolone, è solo un hobby. Esperto di finanza internazionale, attualmente riveste la carica di strategista capo del Fondo Sovrano dell'Oman. In altre parole, lui, insieme agli altri analisti del Fondo, ha decidere dove investire soldi degli sceicchi. Il legame con il Molise resta comunque forte. La conferma arriva dalla scelta di investire i suoi risparmi personali su moda impresa, l'azienda nata dalle ceneri dell'ITR, grazie al sacrificio e agli investimenti dei suoi ex dipendenti. Scacciavillani entrerà in società con una quota del 10%, ma il valore simbolico del suo investimento in Molise è enorme, visto che uno dei più importanti operatori finanziari a livello mondiale ha voluto dare fiducia a questa start-up. Alle spalle Scacciavillani ha una carriera di assoluto rilievo. Ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale, oltre che per la Banca Centrale Europea negli anni del lancio della moneta unica. Poi il passaggio a Goldman Sachs, infine la gestione dei fondi sovrani del Qatar, del Dubai e dell'Oman. Ho investito in moda impresa perché ha spiegato, ho trovato in Romolo Dorazio e nei suoi collaboratori un patrimonio di professionalità, una cultura del bello, della creatività, che meritano di essere salvaguardati e rilanciati. Moda impresa ha tutte le carte in regola per far ripartire il settore tessile. Le persone di questa piccola azienda, che in passato hanno contribuito a far conoscere a livello internazionale l'industria della moda molisana, mi hanno ispirato fiducia. Sono certo, ha concluso Scaccia Villani, che il loro patrimonio di professionalità e di esperienza potrà dare ancora tante soddisfazioni alla nostra regione.